I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati decisivi e l'incubo delle spaccate potrebbe allontanarsi se non fermarsi del tutto, almeno per una parte della lunga serie di danneggiamenti e furti avvenuti nei negozi, nei bar e nei ristoranti di Venezia, Mestre e Marghera. La polizia locale ritiene di aver trovato l'autore. È stato infatti individuato, identificato, fotosegnalato e denunciato all'autorità giudiziaria uno straniero senza fissa dimora sospettato di essere l'autore di almeno quattro episodi di furti con violenza, le cosiddette spaccate alle vetrine. Gli agenti, tempo fa, l'avevano identificato durante lo sgombero di un immobile occupato e ora l'hanno riconosciuto dalle immagini delle telecamere pubbliche e di quelle private delle vittime delle spaccate. Il mio ringraziamento va alla polizia locale e al servizio sicurezza urbana che, con quattro attività investigative supportate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare, individuare e segnalare all'autorità giudiziaria il sospetto autore dei furti nell'area centrale di Mestre. Il lavoro della polizia locale e di tutte delle forze dell'ordine nel territorio comunale è capillare ed è finalizzato alla sicurezza e alla serenità dei nostri concittadini. I colpi sono quattro e riguardano lo sfondamento delle vetrine di tre negozi e locali e dei finestrini di un'auto con successivi furti. Il primo episodio, in ordine di tempo, riguarda due furti avvenuti in un esercizio commerciale a distanza di pochi giorni, entrambi documentati da filmati di videosorveglianza interna. Dopo la denuncia di furto con scasso presentata dai proprietari al servizio sicurezza urbana della polizia locale di Venezia, il nucleo scientifico ha analizzato i filmati che mostravano il sospettato mentre rubava materiale dai locali colpiti dopo aver infranto la vetrata con un tombino.